L'assessore regionale di missionario alle infrastrutture avrebbe deciso di inaugurare lo svincolo autostradale di Rosolini, ma di quale svincolo si tratta si chiedono gli onorevoli Pippo Gennuso e Denzo Vinciullo e a tutti noto dicono che lo svincolo autostradale di Rosolini è aperto da almeno sei anni, come possono testimoniare migliaia e migliaia di cittadini che ogni giorno escono a Rosolini per raggiungere ad esempio la vicina provincia di Ragusa. L'assessore alle infrastrutture ormai lo smette di stupirci con i suoi effetti speciali dicono ancora Vinciullo e Gennuso e dopo aver inaugurato il sottofondo del sottopasso dello svincolo sulla Maremonti, scambiandolo per lo svincolo stesso, nonostante lo svincolo fosse stato aperto almeno tre anni prima, riuscendo ad attirare l'attenzione dei presenti sui pasticcini forniti dalla premiata pasticceria catanese anziché sull'effettivo valore dei lavori, dopo aver ripetuto per almeno due volte lo stesso taglio del nastro sulla bretella autostradale Lido di Noto-Pachino, scambiandolo in questo caso per la strada provinciale Noto-Pachino, nonostante la stessa continuasse a rimanere chiusa dopo un'escursione lampo sui Monti Blei, cercando di far capire che ponte e strade tra Cassolo e Ferla sono stati da lui almeno sponsorizzati, quando invece aveva votato contro i provvedimenti. Adesso decide di stupirci, dicono ancora Gennuso e Vinciullo, inaugurando lo svincolo autostradale di Rosolini, come se noi in questi anni fossimo stati assenti e non ci fossimo impegnati seriamente per il territorio, non avessimo lottato giorno e notte contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane, che è stata la causa dei ritardi storici nella realizzazione delle infrastrutture in provincia di Siracusa. Perché il Consorzio per le Autostrade Siciliane non si occupa di rifare il manto autostradale della Aula Rosolini, che è in condizioni terribili e che tutti i giorni può causare incidenti con la morte di qualche innocente cittadino? Perché, anziché perdere tempo con l'inaugurazione di opere già realizzate anni fa, non li fa impegnare a rifare questo stesso manto stradale, concludono Gennuso e Vinciullo, che verrà rifatto per la seconda e terza volta che è la dimostrazione tangibile e certa di come il CAS non sia capace di gestire le strade a loro affidate. Grazie a tutti!